È difficile perché ancora stamani purtroppo arrivano notizie non buone dal Ministero perché ieri l'incontro con le organizzazioni sindacali è nuovamente emerso alla chiusura dell'azienda ma noi rispondiamo proprio con queste iniziative di sostegno al lavoratore, di sostegno all'avvertenza e anche di raccolta fondi perché tante dovranno essere le manifestazioni nei prossimi giorni per tenere alta l'attenzione su questa vicenda, addirittura l'ipotesi è proprio quella di fare una vera e propria manifestazione presso la sede in Belgio della multinazionale e quindi tutte queste iniziative hanno bisogno di un sostegno anche economico per questo il Comune di Figline Incisa ha scelto di realizzare dei gadget, magliette e spillette a servizio proprio di una raccolta fondi, potrete acquistarle sia durante il Festival Bada in Cede il prossimo giovedì e venerdì, molti circoli aderenti all'iniziativa anche dai lavoratori direttamente e tutto il ricavato della vendita di questi gadget andrà proprio al servizio dei lavoratori e delle loro manifestazioni. Tra l'altro le magliette sono state possibili e realizzate grazie alla vignetta generosamente donata da Ambuoro Piani, un clientista di livello internazionale che ha scelto anche lui di aderire alle manifestazioni a sostegno dei lavoratori. Oltre ai gadget sarà possibile contribuire alle iniziative dei lavoratori anche nei circoli I circoli arci del Valdardo in particolare di Figline Incisa e l'MCN di Ponte Rosso hanno scelto di aderire a questa raccolta fondi e nel prossimo weekend, quello del 21 e 22 luglio tutte le loro attività vedranno una parte del ricavato andare proprio in beneficenza alla vertenza sono tante piccole iniziative ma importantissime anche per non far sentire i soli i lavoratori questo significa che hanno una comunità intera alle loro spalle e che li supporta nella loro battaglia.